ore 19.55 sabato 16 gennaio una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 della scala Richter ha fatto tremare per qualche secondo la terra forte rispetto a quelle precedenti che già avevano messo in allarme la gente epicentro tra baranello vinchiaturo e busso a una profondità di circa 10 chilometri una scossa avvertita pure nei centri limitrofe a campo basso con chiarezza non solo ai piani alti dei palazzi ma anche in strada dove in diversi si sono riversati impauriti nonostante il freddo qualcuno anche in lacrime qualcun altro si è chiuso in macchina e chi ha potuto si è allontanato dall'area dell'epicentro dagli scaffali dei supermercati hanno riferito e caduto anche qualche oggetto scatole dai primi accertamenti tecnici non si sono registrati danni a persone ed edifici ma lo spavento è stato davvero tanto i sindaci dei comuni interessati dal terremoto e vicini all'epicentro hanno ricordato alla popolazione della presenza di aree di emergenza allestite uno sciame sismico che non ha dato tregua alla zona tra campo basso del matese da mercoledì numerose le scosse registrate sul sito dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia già prima di quella forte nelle 19 e 55 di ieri poi ce ne sono state molte altre ancora intervalli anche brevi alle 21 una di 3.4 anch'essa avvertita distintamente così come quella dell'1 e 28 di magnitudo 3.2 della scala richter uno sciame sismico che è proseguito a cui si è aggiunta la neve